Continua l'accoglienza ai profughi ucraini in Abruzzo, regione che si è mostrata solidale con una capillare rete di accoglienza messa in piedi della protezione civile regionale che si è dotata anche di un portale nazionale per meglio convogliare le richieste e organizzarsi in modo adeguato. Finalmente si è sbloccata anche la vicenda del contributo di sostentamento per le persone che si organizzano al di fuori dei centri di accoglienza tradizionali, contributo che dunque può essere erogato tranquillamente. Sul portale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è stata già inserita la piattaforma di accesso per richiedere il contributo di sostentamento, un contributo che è di 300 euro per gli adulti e di 150 euro per ogni minore associato ovviamente all'adulto. E' un contributo molto importante perché ci consente certamente di cominciare a immaginare una strutturazione dell'accoglienza al di fuori della rete alberghiera e anche in parallelo affiancando quella che è la rete CAS e SAI del Ministero dell'Interno. A fare il punto il direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile è Mauro Casinghini. Il dato più aggiornato parla di 5.321 ucraini accolti in regione, i minori sono 1.216, la provincia con maggiore concentrazione di profughi accolti rimane Teramo, seguita da Pescara, L'Aquila e Chieti. Nei giorni scorsi sono arrivati a Giulianova 103 minori senza genitori con 10 accompagnatori, arrivo programmato che si è riusciti a gestire bene con Prefettura e Tribunale dei minori, di concerto con le autorità polacche e ucraine. Servono ancora beni di prima necessità però, di qui l'appello di CASinghini, a donare ancora e soprattutto alle associazioni di volontariato per mettere in piedi attività ricreative estive per i più piccoli. Sul sito della Regione Abruzzo ci sono già i centri di raccolta dei beni di prima necessità con un elenco già di beni che servono. Ovviamente andiamo verso l'estate per cui dobbiamo anche immaginare che questi bambini debbano fare delle attività ludico-ricreative nei comuni dove sono, negli alberghi dove sono, nei centri dove sono accolti. Per cui è un appello anche alle organizzazioni di volontariato che fanno questo tipo di attività a farsi avanti per proporre delle attività ricreative per questi bambini ma in attesa è da dargli anche non solo il senso dell'accoglienza che già l'Abruzzo ha dato ma anche un po' di senso di serenità di cui hanno veramente bisogno.